Buongiorno, lei è insegnante di quale scuola? Io sono la preside dell'Istituto Zanella di San Drigo e sono felicissima di essere qui a accompagnare i miei ragazzi perché hanno partecipato a un concorso stupendo è stata un'idea geniale, veramente multidisciplinarietà nel nome dell'arte e il massimo quindi grazie veramente per questo concorso Le piace la canzone che presentano? Tanto, tanto perché è piena di contenuti forti proprio tutta la finanza attiva, problemi sociali Grazie mille Grazie a voi